...de deputati. In videoconferenza abbiamo l'ordine del giorno, eccoci qua. Rega l'audizione informale dei rappresentanti di Confcommercio, ringrazio Donatella Prampolini, vicepresidente incaricata per lavoro alla bilateralità, Francesca Stifano, direttore centrale della zona istituzionale dei servizi legislativi e per Paolo Masciocchi, responsabile del settore ambienti, utilities e sicurezza. Facendo quindi la parola a chi? Alla vicepresidente? Sì, esatto, parlo io. Benissimo, alla vicepresidente, quindi pregando di voler sintetizzare. Ci avete un documento? Perché qui vedo che gli uffici mi hanno scritto... Sì, sì, ve lo faremo subito dopo l'audizione. Io vado soltanto per sommi capi perché sappiamo che abbiamo poco. Grazie, prego, prego. Non le rubo altri secondi. Non c'è problema, tanto dopo me li prenderei. No, sto scherzando, sto subito al punto. Allora, la proposta di regolamento di oggi ovviamente prospetta una revisione radicale di quello che invece è quanto è stato fatto in Italia in questi anni e quanto si è investito, per cui ci sono grossi pericoli che noi vediamo perché potrebbero essere travolte interi settori del made in Italy con conseguenze incalcolabili sulla sicurezza degli approvvigionamenti ma anche sulle catene di distribuzione. Ci sarebbero poi degli interi settori che verrebbero veramente travolti da questa direttiva. Basti pensare ad esempio tutta la filiera agroalimentare, la piccola, la media e la grande distribuzione, gli operatori della ristorazione, il vending, l'intrattenimento, il turismo e molti altri comparti. Quindi, riassumo quelle che sono per noi le maggiori criticità. Il primo, l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi presenti nel mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030 è difficilmente perseguibile se non si mettono a fianco di questo obiettivo anche degli investimenti, ma veramente investimenti molto grossi, nelle infrastrutture di selezione, recupero, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti. Ad oggi, infatti, la diffusione di questi impianti nel nostro paese è largamente insufficiente. Poi c'è tutto il tema legato a questa lotta al packaging del monouso, che dal punto di vista dell'immaginario collettivo è una grande conquista, ma in realtà ci sono studi che sono stati fatti anche recentemente ed è provato che il passaggio dal monouso per i piccoli consumi al non monouso, quindi allo sfuso, in realtà comporterebbe una maggior produzione di CO2 e genererebbe dei numeri che sono impressionanti. 48% in più di emissioni di CO2, 39% in più di consumo di acqua potabile, 82% in più di estrazioni di minerali e risorse. Peraltro, ricordiamoci anche che il monouso dà una grandissima garanzia ai consumatori rispetto, ad esempio, a tutta la normativa igienico-sanitaria. I riutilizzabili, invece, presentano maggiori rischi di contaminazione incrociata dovuta alla pulizia, al trasporto, mentre l'imballaggio monouso tutte queste cose non le ha. Quindi, ai costi che ho detto prima, per la collettività, sicuramente si potrebbero aggiungere ulteriori costi dovuti, invece, proprio alle malattie che potrebbero anche trasmettersi utilizzando contenitori non perfettamente igienizzati. C'è poi tutto il tema del cauzionamento. Ricordiamoci che l'Italia ha fatto una scelta diversa, da questo punto di vista, tra l'altro, è pioniera in Europa, è un numero uno in Europa, mentre qua si vuole fare, si vuole obbligare una filiera che si è già strutturata in maniera diversa ad utilizzare il cauzionamento. Anche questa cosa causerebbe, probabilmente, dei grossi pericoli per la nostra economia anche perché si andrebbe, intanto, a sovrapporre un circuito già efficace di raccolta differenziata che capisco che in altri paesi europei non ci sia, ma da noi, invece, è stata molto implementata ed è stata anche molto incentivata. È economicamente dannoso perché potrebbe determinare, oltre appunto a una duplicazione di costi economici e ambientali, anche una sostituzione rispetto a raccolte differenziate su cui noi invece abbiamo puntato tanto, su cui i comuni hanno puntato tanto. Peraltro è difficilmente realizzabile perché verrebbero introdotti gravi problemi di carattere logistico e organizzativo perché non tutte le imprese hanno gli spazi per poter, ad esempio, gestire questa tipologia di strumentazione che l'Europa vorrebbe. Il personale dovrebbe essere implementato perché gestire un riciclo significa anche dover utilizzare più personale per poi gestire appunto il ritiro del materiale da poi mandare alla igienizzazione e in più ci vorrebbe anche un personale formato. Facciamo già fatica a trovare personale in questo momento, figuriamoci anche dover andare a reperire su un mercato già così complesso anche del personale formato sullo specifico tema. Quindi noi non diciamo no totalmente al sistema del cauzionamento, ma dovrebbe essere adottato invece su base volontaria. Ci possono essere delle strutture che sono pronte per dimensioni, per preparazione del personale, ma devono queste strutture anche avere l'opzione di poter rifiutare un contenitore fornito da un cliente se non lo ritengono igienico o sufficientemente sanificato o inadatto ad esempio al cibo o la bevanda che dovrebbe contenere. E questo ovviamente è una questione fondamentale. Per ultimo, e vado velocemente verso la fine, dico che lo strumento normativo proposto non ci convince, infatti la scelta di un regolamento e non di una direttiva lascia ben poco spazio ai stati singoli nella definizione di modelli di strumenti da adottare più adatti appunto al proprio background e al percorso che è stato fatto fin qua, perché non partiamo da zero. E quindi l'Italia ad esempio, che invece ha fatto un grandissimo lavoro, potrebbe essere proprio penalizzata rispetto magari a stati che invece rispetto alla sostenibilità sono molto più indietro rispetto a noi. Chiudo dicendo che abbiamo fatto delle critiche puntuali. Noi non siamo ovviamente contro la strategità del percorso di transizione ecologica che l'Europa e i suoi stati vogliono perseguire, ma ribadiamo come abbiamo sempre fatto che il raggiungimento di questi obiettivi non può e non deve compromettere la crescita e la competitività del nostro sistema economico, che ancora oggi è fortemente provato prima dalla crisi pandemica e poi oggi da una crisi energetica da cui non siamo assolutamente ancora usciti. Grazie a lei. Se non vi sono colleghi che intendono prendere la parola qui in aula oppure da remoto, ringrazierei i rappresentanti di Confcommercio per il contributo che hanno dato ai lavori. Il collega Simiani, prego. Mi scuso perché non l'avevo visto. Grazie Vicepresidente. Le volevo fare una domanda proprio in merito a quello che lei ha detto, diciamo che condivido e capisco le difficoltà oggettive di un settore sicuramente in difficoltà e comunque sempre a rischio nell'ambito anche dei rapporti e nel rapporto soprattutto anche con il mercato elettronico e con le grandi distribuzioni. Detto questo, credo che oggi esiste un problema che è legato al packaging in termini generali, soprattutto nell'ambito anche delle merci e soprattutto anche delle vendite. Il fatto che oggi si possa utilizzare meno sacchetti però è anche un fattore di fashion, presentare il proprio sacchetto sia come negozio di abbigliamento o qualsiasi altro tipo di pubblicità di per sé. Lei ha dei numeri come associazione che siano utili a capire che tipo di monte rifiuti oggi genera il mondo del commercio? Perché ci sarebbe a capire anche l'elemento della possibilità di poter fare quel ragionamento perché noi siamo in questo momento nella discussione giusta, visto che lei ha detto correttamente che il riciclo, cioè noi abbiamo ormai una filiera strutturata del riciclo e su questo noi dovremmo comunque rimanere e non andare solamente sul riuso. Lei ha, l'associazione ha dei numeri, ha dei macronumeri in tal senso? Grazie. Allora, in questo momento no, non ne abbiamo ma possiamo provare a vedere tra i nostri interlocutori magari le aziende un pochino più strutturate che sicuramente qualche numero potrebbero fornircele quindi sarà nostra premura magari quando vi mandiamo la nostra memoria mandarvi anche se riusciamo a trovare qualche numero. Faccio solamente presente che tutto quello che c'è stato da fare in questi anni per migliorare la sostenibilità all'interno dei nostri punti vendita anche per le motivazioni che lei ha detto perché il nostro consumatore oggi è un consumatore anche sensibile alla sostenibilità quindi gli fa piacere che le borse siano biodegradabili, biocompostabili che nel fashion magari si utilizzino materie diverse che non sono più la classica borsina di plastica però qui stiamo parlando di una cosa diversa cioè stiamo parlando di una lotta ad esempio al monouso che ha motivazioni che vanno al di là anche della sensibilità personale perché pensate ad esempio nel settore dell'alimentazione e non parlo solo di piccola somministrazione o di piccoli negozi alimentari perché questo è un problema che accomuna anche la grande distribuzione è proprio che oggi non c'è qualcosa che sostituisca per quanto riguarda la salubrità degli alimenti, l'igiene degli alimenti, il monouso quindi attenzione a fare queste guerre intestine perché i titoli sono belli ma poi si scontrano con la realtà delle cose quindi quello che noi diciamo è vogliamo accompagnare questo passaggio vogliamo anche educare il consumatore perché spesso il consumatore stesso che chiede magari contenitori che non sono così sostenibili quindi noi vogliamo fare un percorso di educazione attenzione però a fare delle direttive che impongono delle svolte epocali soprattutto in alcuni settori in cui queste svolte epocali si cozzano poi con la reale sostenibilità e anche con i reali benefici perché come vi ho detto prima questi studi dicono chiaramente che passare dal monouso allo sfuso in realtà non dà un beneficio all'ambiente crea esattamente il contrario quindi cerchiamo di fare anche un'operazione forse di comunicazione sana per far capire esattamente che i percorsi si devono fare ma è giusto anche non saltare troppi gradini perché si rischia di farsi male Grazie Vice Presidente, ringraziamo lei e tutti i rappresentanti di Confomercio per il contributo dato all'audizione che dichiariamo conclusa Grazie davvero, buona giornata Buongiorno Vediamo se ci sono già i rappresentanti di Asso Bioplastiche Asso Bioplastiche, Luca Bianconi Esatto Noi trasmettiamo naturalmente sulla web tv Dottor Bianconi L'ordine del giorno regala l'audizione informale dei rappresentanti di Asso Bioplastiche Do la parola a Luca Bianconi Presidente, ricordando che il tempo complessivo è a disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti Prego Dottor Bianconi Ringrazio, buongiorno Grazie Presidente, tutti i membri della Commissione per l'opportunità che viene data alla nostra associazione da me rappresentata di essere audita in questa Commissione Farò una breve panoramica sulla nostra associazione, sui numeri della nostra filiera sulle specificità del modello italiano gli elementi positivi che riporta la proposta di regolamento le criticità che sono presenti nella proposta di regolamento e di conseguenti rischi concreti per il nostro sistema industriale e quelli che sono gli interventi, le proposte della nostra associazione Asso Bioplastiche è l'associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili compostabili è stata fondata nel 2011 ed appartengono ad Asso Bioplastiche circa 60 soci fra i vari soci abbiamo produttori di bioplastiche sia italiani che esteri trasformatori di bioplastiche, commercianti e distributori di prodotti in bioplastiche compostabili associazioni e denti di ricerca e non per ultimo i gestori degli impianti di trattamento della frazione organica per dare qualche numero i dati sono riferiti al 2022 le aziende che sono presenti nel nostro settore sono circa 275 gli addetti dedicati sono quasi 3000 lo scorso anno nel 2021 abbiamo superato il muro del miliardo di euro sarà nostra cura dopo il 14 giugno prossimo in occasione della nostra futura assemblea inviare alle commissioni il report con i dati aggiornati relativi al 2022 passiamo adesso a vedere le specificità del modello italiano voi sapete che lo sviluppo delle bioplastiche compostabili ha reso il nostro paese all'avanguardia in questo settore quindi questo traguardo è stato possibile grazie agli ingenti investimenti ricerca sviluppo e soprattutto grazie alla diffusione della raccolta differenziata dell'organico la raccolta differenziata dell'organico in Italia è partita nei primi anni 90 questo ha permesso al settore industriale delle bioplastiche di svilupparsi in stretta connessione con quella che è la raccolta differenziata dell'organico ricordo che l'Italia è stato il primo paese a dotarsi di un consorzio EPR quindi il consorzio Biorepac per la raccolta e il riciclo organico degli imballaggi compostabili il rapporto su rifiuti urbani dell'ISPRA evidenzia come l'utilizzo di shopper compostabili contribuiscano a migliorare la raccolta differenziata dell'umido così come l'utilizzo di piatti e stoviglie compostabili ne riducono la presenza di contaminanti per quanto riguarda il regolamento passiamo adesso a vedere gli elementi positivi quindi l'elenco positivo di applicazioni di compostabilità imposta ad esempio passiamo a vedere quelle che sono le capsule per il caffè le etichette adesive per i prodotti ortofrutticoli così come i sacchetti materiali ultrareggeri questi sono presenti nel regolamento dove viene richiesta di imposta la compostabilità quindi parliamo dell'articolo 8 paragrafo 1 auspichiamo che queste applicazioni per l'imballaggio restino comunque nella lista positiva delle applicazioni obbligatoriamente compostabili in modo particolare per quello che riguarda le capsule del caffè in modo specifico le capsule del caffè in cui l'imballaggio ovvero la capsula compostabile è strettamente coerente con il contenuto quindi con il caffè, con il fondo del caffè quindi l'obbligo di compostabilità dell'imballaggio è essenziale per evitare una contaminazione del rifiuto organico a questo punto condividiamo pienamente la posizione di European Bioplastic sulla necessità di mantenere l'obbligo di compostabilità per le capsule del caffè e sarà comunque sia nostra premura inviare nella giornata di giovedì il nostro position paper di asso bioplastiche redatto dal nostro comitato tecnico passiamo a vedere quelle che sono le criticità della proposta di regolamento la proposta di regolamento restringe fortemente le tipologie di imballaggio in bioplastica compostabile consentite penalizzando in modo sproporzionato e discriminatorio l'intero settore italiano della bioplastica non lasciando a questo punto spazio di manovra agli stati membri per stabilire regole adeguate alle proprie specificità come abbiamo visto è presente solo un elenco limitato di applicazioni mentre per tutte le altre applicazioni vengono vietate in modo particolare l'articolo 22 che vieta le applicazioni food contact dove il ruolo dei materiali compostabili del riciclo organico è fondamentale altre applicazioni invece vengono consentite ma solo destinandoli in modo inspiegabile ad un riciclo meccanico mi riferisco all'articolo 8 paraga prote nonostante la bioplastica compostabile sia progettato per un altro fine vita quindi per il riciclo dell'organico passiamo adesso a vedere quelli che sono i rischi concreti per il nostro sistema industriale la proposta di regolamento quindi anziché spingere ad investire in prodotti a più alto valore aggiunto come prodotti compostabili e biobased non ne coglie appieno il potenziale rischiando di compromettere tutto il tessuto imprenditoriale europeo e italiano lasciando spazio ai paesi extra oe che stanno invece investendo in modo massiccio in questo settore come fra l'altro vediamo sia come sia gli Stati Uniti e sia la Cina ricordo che ormai da qualche settimana è stato aperto un tavolo di crisi in relazione all'azienda treviciana Dopla un'azienda che attiva da oltre 50 anni nel settore delle materie plastiche e che si è convertita alle bioplastiche nel 2019 che però a causa di una mancata tutela del settore da parte dell'Europa rischia seriamente di perdere oltre 100 posti di lavoro passiamo adesso a vedere i principali interventi che la nostra associazione ritiene necessari quindi dare maggiore flessibilità agli Stati consentendo di conservare e ampliare a livello nazionale il numero delle applicazioni già ammesse per gli imballaggi in bioplastica compostabile sulla base dei propri sistemi di trattamento pensiamo per esempio ai piatti in plastica compostabile che per contenere prodotti alimentari essendo sporchi di cipro dopo l'utilizzo il loro fine naturale è proprio quello del riciclo organico gli imballaggi in bioplastica compostabile e rinnovabile non dovrebbero contenere limitazioni di impiego per tutte le applicazioni a contatto con alimenti dovrebbero quindi essere sentati dai divieti dall'articolo 22 degli imballaggi manuuso realizzati in materiale a contatto con gli alimenti si dovrebbe altresì modificare la regola di chiusura per la quale tutti gli imballaggi compostabili non esplicitamente imposti o consentiti debbano essere riciclati meccanicamente che pur trattandosi dei materiali nati per il compostaggio organico come abbiamo già detto in passato Dottor Bianconi mi scusi un minuto soltanto eh ancora un minuto prego si ho quasi finto si dovrebbe fare riferimento invece ai criteri di riciclabilità organica di cui all'allegato 3 concludo eh per gli imballaggi in bioplastica compostabile dovrebbe essere previsto un contenuto minimo obbligatorio di materie prima rinnovabile pari al 60% in linea con gli importanti investimenti realizzati in Italia nel settore della chimica biobased e con il maggior livello di tuteria sia ambientale che dei materiali io ringrazio per l'attenzione grazie a lei vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire tra i colleghi altrimenti ringraziamo il presidente di Asso Bioplastiche Luca Bianconi per il contributore sui nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione grazie Dottor Bianconi buona giornata grazie a voi buona giornata grazie all'ordine del giorno regalo l'audizione informale dei rappresentanti del Consorzio Autonomo Riciclo Palastica Italia Carpi do la parola a Michael Trevisanato responsabile dell'ufficio studi e Francesco Benveniu componente dell'ufficio studi ricordando che il tempo complessivo è a loro disposizione per l'intervento è di 5 minuti siete insieme e inquadrati potete prego parola a voi buongiorno presidente buongiorno agli ulteriori presenti per prima cosa vi ringraziamo per la possibilità di intervenire a proposito della proposta che ci è stata trasmessa anticipiamo già che provvederemo a trasmettere alla commissione le commissioni una memoria scritta più estesa e più tecnica in maniera tale da evidenziare quelli che sono gli aspetti per noi più peculiani della proposta e avremo preparato una breve presentazione se posso permettermi di condividervela rimanendo ovviamente all'interno del tempo che si è stato assegnato prego sono in condivisione prego ottimo per prima cosa il Carpi è un consorzio privato nato nel 2007 dalla volontà di alcuni imprenditori di riunirsi per valorizzare quella che è la filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi in plastica provenienti da superficie privata all'interno del consorzio ci sono diverse categorie di imprese tra cui raccorditori, riciclatori, meccanici, punitori di servizi, trasformatori, produttori di nuovi manufatti a partire dal rifiuto che viene trattato e trasformato in materia prima e seconda ad oggi il Carpi conta su ben 54 aziende consorziate e sono state trattate nel corso del 2022 ben 481.000 tonnellate di rifiuto di polietilene avviate poi ovviamente il liquero e il risidazio meccanico con un conseguente risparmio in termini di insieme equivalente se è possibile, perdonatemi, se è possibile, parlate un pochettino più vicino al microfono perché noi abbiamo messo al massimo del volume ma abbiamo qualche difficoltà se si avvicina un po', proviamo un po'? certo così è perfetto, grazie ottimo, la ringrazio procedendo velocemente, considerata anche le tempistiche piuttosto ristrette abbiamo scelto di raggruppare gli elementi che a nostro avviso presentano le maggiori criticità in alcuni punti per prima cosa faremo un attimo una riflessione su quella scelta della tipologia del lato giuridico proposto dalla Commissione per poi andare nello specifico a visionare alcuni degli articoli che a nostro avviso meriterebbero più attenzione partendo proprio dalla tipologia della scelta della tipologia del lato giuridico a nostro avviso la scelta di un regolamento porta a considerare una poca osservanza di quelli che sono i principi di succedere in tale proporzionalità in quanto sempre secondo il Consorzio Carpi sarebbe stato più opportuno optare per una direttiva questo per andare a valorizzare non solo quelli che sono i tessuti imprenditoriali di diversi paesi ma anche i diversi ordinamenti giuridici soprattutto per quanto riguarda una materia complessa e delicata come quella degli imballaggi che va a toccare diversi ambiti e porta modifiche diciamo o comunque coinvolge diverse tipologie di attori l'Italia risulta penalizzata da questo punto di vista in quanto l'industria del riciclo nel nostro paese è già ben avviata e l'industria del riciclo italiana rappresenta un fiora l'occhiello a livello internazionale soprattutto per quanto riguarda poi l'aggiungimento degli obiettivi perché per quanto riguarda appunto l'aggiungimento degli obiettivi molti degli obiettivi di recupero del riciclo l'Italia li ha già superati pertanto andare a sconvolgere con un regolamento un assetto giuridico un assetto ambientale ed economico risulterebbe sfavorevole dal punto di vista proprio delle imprese e dell'aggiungimento degli obiettivi in sé anche perché ricordiamoci che le direttive tra cui la 2008-98 sui rifiuti e la 94-62 che venne abbia abrogata da questo regolamento hanno già portato buoni raggiungimenti degli obiettivi quindi l'Italia si era già mossa in questa direzione e con atti interni tra cui per citare il PNRR è già stata intraprese una strada verso la valorizzazione del riciclo quindi a nostro avviso la scelta di un regolamento risulta di difficile applicazione per quanto riguarda sia la nostra normativa sia per quanto riguarda le imprese che si ritroverebbero sconvolte da questo punto di vista e l'impatto non sarebbe assolutamente lieve cedo ora la parola al mio collega dottor Francesco Benveniù per quanto riguarda la parte finale dell'esposizione andando a vedere con calma gli altri articoli di cui poi come anticipato forniremo una descrizione più dettagliata all'interno della memoria scritta che provvederemo a trasmettere alle commissioni grazie buongiorno a tutti spero mi sentiate nello specifico appunto abbiamo trovato degli articoli che secondo noi andrebbero riesaminati quantomeno e possibilmente emendati partiamo dalle definizioni ci sono varie definizioni contenute all'interno dell'articolo 3 ne abbiamo raccolto qui alcune che o andrebbero a sovrapporsi a quelle già esistenti all'interno del test unico ambientale italiano andrebbero a creare ulteriore confusione visto appunto quelle presenti quindi questo è un elemento da tenere a mente innanzitutto andrò molto veloce proprio per poco tempo per quanto riguarda poi gli imballaggi riciclabili l'articolo numero 6 valutiamo ovviamente positivamente soprattutto i commi 1 e 2 di questo articolo e il fatto che si faccia riferimento nel comma 2 lettera A alla progettazione per il riciclo che come sappiamo è fondamentale per poi arrivare a riciclare bene il rifiuto valutiamo invece negativamente il fatto che non vi sia una data di scadenza per l'adozione degli atti delegati che poi dovrebbero andare a definire i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazioni di riciclaggio quindi questo andrebbe a creare incertezza e metterebbe a rischio proprio l'applicazione corretta del regolamento per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica l'articolo numero 7 valutiamo ancora una volta positivamente l'introduzione del contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica è qualcosa che potrebbe andare a giocare molto proprio al nostro settore è qualcosa che il Carpi per cui il Carpi spinge da molto tempo quindi lo valutiamo positivamente invece siamo più critici per quanto riguarda la possibilità che la Commissione adotti degli atti delegati per variare la percentuale minima di riciclato o dovrebbe essere eliminata o dovrebbe essere implementata immediatamente in modo proprio da andare a evitare l'incertezza che questo tipo di articolo andrebbe a togliere il nostro mercato proprio perché sennò gli attori coinvolti gli stakeholders dovrebbero attendere l'eventualità dell'adozione di questi atti delegati ed infine per quanto riguarda il comma 11 per quanto riguarda la possibilità di estendere immediatamente il contenuto minimo di riciclato invece di aspettare 8 anni come proposto dal testo del regolamento proprio per evitare che ci sia una concorrenza teleale tra gli imballaggi in plastica che quindi dovrebbero contenere una certa quantità di riciclato e gli altri materiali che non avrebbero gli stessi obblighi per quanto riguarda gli imballaggi compostabili anche qui la nostra votazione è positiva è importante normare questa tematica quindi accogliamo positivamente la decisione della Commissione sarebbe però opportuno che invece di fare riferimento al fatto che le borse in plastica e materiale ultraleggere debbano essere compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento di rifiuti organici vi fosse un chiaro riferimento alla norma N13.432 che è la norma sul biodegradabile e sarebbe opportuno che non solo vi facessi riferimento ma che la stessa norma venisse aggiornata e visionata tenendo appunto conto di quelle che sono realisticamente le necessità che hanno gli impianti di compostaggio per garantire la corretta biodegradazione delle bioplastiche all'interno appunto di questi impianti e oltretutto sarebbe sempre comunque opportuno tenere conto di un'analisi del ciclo vita per quanto riguarda la produzione di questi tipi di imballaggi l'articolo 26 che riguarda gli obiettivi di rutilizzo e di ricarica la nostra valutazione è negativa sarebbe appunto innanzitutto opportuno specificare in modo più chiaro magari un allegato con una lista quali sono i prodotti che vengono coinvolti e come già specificato dal mio collega in generale per quanto riguarda questo regolamento questa proposta di regolamento la dottore abbiamo un minuto rimanente un minuto solo sì ok è dubbia nel senso che gli impatti sono tanti e sembra che siano stati presentati solamente quelli positivi e non quelli negativi che ci sarebbero sul sistema di singoli stati lo stesso si può dire per il sistema DRS articolo 44 nostra valutazione è ancora una volta negativa e oltretutto viene una mancanza di coerenza con il comma 1 dell'articolo 9 della direttiva SUP dove viene specificato che per raggiungere gli obiettivi contenuti in un articolo si possa anche ricorrere ad un sistema DRS ma non viene obbligo mentre qui vi serve un obbligo fondamentalmente ed infine per quanto riguarda le sanzioni anche qui alla valutazione negativa non vengono specificate le utilità competenti in materia e c'è una certa disomogeneità delle misure e per quali misure verranno applicate le sanzioni grazie mille questo è tutto il resto verrà poi inserito all'interno delle memoria che benissimo benissimo andvieremo grazie grazie a voi quindi ringraziamo i rappresentanti del Consorzio Autonomo Recicoloplastica Italia Carpi per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione grazie di nuovo buona giornata buona giornata l'ordine del giorno regala l'audizione informale dei rappresentanti dell'Unione della Provincia d'Italia UPI do la parola a Luca Menesini Menesini è collegato ci vede ci sente anche spero e noi sentiamo lui Presidente della Provincia di Lucca ricordando che il tempo a disposizione è di circa 5 minuti Menesini ci sente? Menesini ci sente? Presidente 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 Menesini Presidente non ci sente vero? ok adesso la chiamiamo eh sì va bene provo subito grazie dottor Menesini si sente? eccomi ora ci sono adesso si sente va vicino va vicino al microfono ottimo Presidente no no io sento benissimo adesso mi dispiace ma prima non sentivo veramente niente allora proviamo a recuperare questo tempo che abbiamo perso prego Presidente la parola a lei va bene ci provo intanto ringrazio ringrazio Presidente ringrazio tutti i membri della Commissione per questa appunto audizione per noi è estremamente importante perché il tema è un tema centrale per le autonomie locali e è un tema centrale anche per il nostro Paese parlare di regolamento emballaggi rifiuti derivati è intanto è di grande attualità di grande attualità rispetto al dibattito anche sul cambiamento climatico però credo che poi vada a cogliere anche quella che è una caratteristica del nostro Paese che si è sviluppata negli anni in oltre venti anni qui mi faccio faccio riferimento al decreto Ronchi del novantasette quando appunto abbiamo tracciato come Paese e qui con un grande protagonismo delle autonomie locali una strada ben ben precisa abbiamo scelto un paradigma che è quello appunto del del riciclo e quindi del delle implementazioni della raccolta differenziata il grande impegno dei cittadini da questo da questo punto di vista e anche quindi oggi i dati che noi abbiamo l'impegno dei cittadini delle municipalità dei comuni l'impegno ovviamente di un sistema produttivo che ha saputo gestire una transizione e che oggi ne fa un punto di eccellenza del nostro Paese quindi qua si rileva una prima diciamo carenza di questa proposta di regolamento che sembra non calzare proprio a quelle che sono le caratteristiche del nostro Paese del nostro sistema sotto diversi aspetti e con i risultati che ha raggiunto in questi in questi ultimi decenni e qui faccio anche riferimento per esempio a tutto il tema del PNRR come municipalità come autonomie locali abbiamo partecipato alla misura anche per impiantistiche e a fronte per esempio di questo regolamento c'è da chiedersi anche quanto queste impiantistiche che andremo a implementare sono coerenti con ovviamente con questa con questo provvedimento quindi rispetto a questo sicuramente ci sono diversi aspetti che devono essere modificati e l'audizione hanno proprio questa questa funzione faccio due considerazioni rispetto all'importanza dei cittadini e qui mi rivolgo al legislatore non necessariamente sulla dire sulla sul regolamento in quanto tale ma rispetto al ruolo che ha il legislatore sicuramente noi abbiamo questi risultati grazie all'impegno dei cittadini nella raccolta differenziata e spesso il porta a porta c'è bisogno in un momento come questo dove le tariffe stanno aumentando per tutta una serie di ragioni di ovviamente riconoscere ai cittadini l'impegno che stanno mettendo pena appunto di saltare questo sistema il secondo è io qua rappresento le province le province sono state un ente molto attivo su queste tematiche fino alla riforma del 2015 fino alla riforma del 2014 la del Rio oggi c'è una discussione aperta in Parlamento sul tema delle province si è lasciato un vuoto sui territori io credo che questo vuoto debba essere debba essere colmato perché appunto nella funzione da una parte di pianificazione di incentivazione di accompagnamento dei singoli territori dei comuni pensiamo anche ai comuni piccoli su questo ecco questo vuoto si sente quindi su questi aspetti anche ambientali quindi del ruolo che possono avere le province nel condurre della transizione appunto climatica credo che sia estremamente estremamente importante venendo alla proposta ci sono alcune considerazioni io rimango su un carattere generale non entrando negli specifici articoli intanto la proposta riguarda per buona parte il tema del riciclo ci sono ovviamente dei requisiti che sono particolarmente stringenti che mettono in crisi il nostro sistema e credo su questo sia importante appunto prevedere un coinvolgimento ampio di tutti gli stakeholder a partire dalle autonomie locali che come dicevo sono dei grandi attori però il tema del riciclo comunque è centrale in questo in questo regolamento sul tema del riuso ci sono ovviamente delle delle perplessità che però si possono risolvere con un approccio scientifico quello che a volte anche il dibattito di questi giorni rischia di cadere su un ambito più ideologico e quindi non far vedere le cose per effettivamente quello che sono cioè mi riferisco al fatto che comunque un approccio scientifico dove si dimostra poi effettivamente cosa conviene da un punto di vista di impatto ambientale è estremamente importante quindi non mettere in contrapposizione il riciclo e il riuso ma vederli appunto come possibilità di camminare di pari passo su questo è ovvio che il tema PET è particolarmente dedicato noi oggi siamo a un recupero di questo dati diciamo nazionali intorno al cinquanta per cento altri paesi che hanno adottato altri metodi sono molto più alti quindi su questo ci sono sicuramente dei passi avanti importanti da poter fare e che ovviamente hanno necessità di essere accompagnati senza ovviamente dimenticarsi tutto quello che ha l'effetto sulla riduzione dei rifiuti perché noi quello che dobbiamo fare è quello di lavorare perché ci sia una vera e propria riduzione quindi su questo aspetto mi sembra che appunto il regolamento evidenzia alcune alcune questioni molto bene anche tutta la questione legata alla rep alla responsabilità estesa del produttore e l'ultima questione che mi sento di dire è ovviamente il ruolo centrale dei comuni qua parlo come province come autonomie locali che però sono anche la casa dei comuni siccome questi provvedimenti questo regolamento prevederebbe secondo che piega prende anche un'esclusione dei comuni nella raccolta di alcuni di alcuni materiali che sarebbero anche quelli da un punto di vista economico più interessanti questo deve essere assolutamente scongiurato perché porterebbe a saltare a far saltare il sistema anche da un punto di vista di autonomie locali che abbiamo impiantato in tutti in tutti questi anni comunque invieremo anche un documento e ringrazio per l'occasione di confronto grazie presidente Menesini c'è il collega Simiani che vuole intervenire prego sì grazie presidente ciao presidente del tutto tanto ci conosciamo quello che condivido quello che hai detto soprattutto nell'ambito anche della riflessione della contrapposizione che c'è in questo momento fra riuso e riciclo giustamente i comuni oggi sono la prima interfaccia dei cittadini ma e soprattutto l'idea e l'impostazione che anche comuni come il tuo hanno dato in questi anni è quello sicuramente di abbattere il monte rifiuti tuttavia oggi noi ci troviamo in questa difficoltà nel poter riuscire a far capire anche la comunità europea che oggi la nostra filiera che si è strutturata soprattutto sul riciclo non debba essere assolutamente abbandonata la riflessione però che hai fatto te come si potrebbe declinare questo accompagnamento cioè nel punto di vista anche industriale nei rapporti con le società che oggi sono pubbliche ma soprattutto nell'ambito anche del sviluppo economico e delle imprese perché il limite che oggi noi vediamo in tutte queste nostre aduzioni è che c'è una contrapposizione che rimane totalmente ormai insomma plastica nell'ambito delle relazioni fra chi fra l'associazione ambientaliste e soprattutto anche fra chi oggi produce economia nell'ambito del riciclo ecco come potrebbe accompagnare l'ente locale cercando di far capire che questo mondo deve convivere grazie grazie prego presidente credo credo questo intanto saluto l'onorevole Simiani mi fa piacere di trovarlo in commissione credo credo questo cioè ci sono due questioni intanto una è il tema dell'economia circolare è il recupero delle materie prime e seconde su questo tema l'Europa sta investendo moltissimo il nostro paese sta investendo e come dicevo appunto anche sui bandi PNRR abbiamo presentato anche il mio comune ha presentato un progetto per il recupero dei pannolini i pannoloni che stiamo già raccogliendo in maniera differenziata separata e quindi per il recupero della cellulosa materiale assorbente e plastica tra l'altro siamo a Lucca e nel polo cartare quindi è molto semplice anche il recupero della cellulosa cioè queste filiere noi le dobbiamo salvaguardare questo è il primo aspetto perché ovviamente fanno parte di un sistema che è cresciuto e che è cresciuto in una logica ovviamente di anche politiche che vogliono contrastare quello che è tutti i problemi legati al cambiamento legato al cambiamento climatico l'altro aspetto che dicevo prima è quello scientifico cioè io ho partecipato ad un evento dove si è dimostrato che alcune questioni che secondo il regolamento applicato in una maniera molto stringente poi ci sono le famose questioni per motivi genico-sanitari che sicuramente diventano una deroga molto interessante anche a quella notizia vista su Repubblica delle famose buste dell'insalata tanto per intendersi e su questo veramente stiamo ragionando del niente e però rispetto a questo quello che è stato dimostrato in questo incontro dall'università quindi da ricercatori scientifici è che il riciclo in questo caso ha un impatto inferiore rispetto al riuso quindi su questo ecco io credo che forse sorsiamo dal dibattito ideologico e della contrapposizione possiamo trovare delle soluzioni molto interessanti senza perdere di vista ovviamente il tema della plastica che il tema della plastica è un tema molto delicato e sul quale ovviamente l'obiettivo di tutti noi l'obiettivo a livello mondiale infatti esistono anche ovviamente dei lavori a livello mondiale su questo deve essere quello appunto di permettere un recupero e soprattutto impedire quella che è la dispersione in ambiente e su questo ecco mi sembra che alcune misure che vengono proposte sicuramente possono portare a un miglioramento da questo punto di vista l'importante poi è anche accompagnare il nostro sistema produttivo che già in questi anni in questi decenni ha dimostrato grande capacità e credo che su questo possa dimostrarla anche rispetto a questi cambiamenti perché altrimenti rischiamo rispetto ad altri paesi europei di tra 20 anni di trovarsi indietro e chiudo indietro rispetto a quello che è l'avanzamento che questi paesi europei ovviamente facciano grazie Presidente Episcuteri stiamo andando molto stretti quei tempi c'è anche il collega Barabotti voleva intervenire prego grazie Presidente grazie il Presidente Menesini per il contributo che ha dato a questo dibattito la provincia di Lucca è un unicum io penso in Italia e probabilmente in Europa perché c'è una fortissima concentrazione di attività di impresa che hanno fatto del riciclo un business e un e un e un e un e diciamo un business dell'economia circolare molto importante e siccome parliamo di transizione ecologica e degli impatti che questa ha sull'ambiente oltre che su diciamo così sugli aspetti economici e sociali secondo me sarebbe interessante per questa commissione capire se il Presidente Menesini attraverso i suoi canali potrà fornire alla commissione degli elementi per valutare l'impatto economico e sociale di una di una di un regolamento come questo applicato nei termini previsti oggi dalla commissione grazie collega Presidente però deve essere le chiedo di essere telegrafico se possibile intanto saluto l'onorevole Barabocchi mi fa piacere di incontrarlo credo che questo si possa fare ma soprattutto ecco siccome è un sistema come è stato detto un sistema dove l'industria è particolarmente attiva ma siamo anche la prima provincia in Toscana per raccolta differenziata credo che sarebbe interessante anche una visita della commissione sarebbe in lieto di poterli ospitare in provincia e poi fare anche un tour sul territorio per vedere quello che in questi anni è stato implementato dalla collaborazione appunto tra il pubblico e il privato perché poi questa è la base di tutto comunque mi impegno a mandare alcuni elementi che sono stati detti di studio di approccio scientifico grazie Presidente Menesini e ringrazio quindi il Presidente della provincia di Lucca per il contributore sui nostri lavori e dichiaro concluso all'audizione grazie di nuovo Presidente a presto buona giornata grazie buon lavoro grazie a lei dell'occasione dunque nel settore della carta ha due parole perché credo che sia sempre utile metterci in un contesto se ne è parlato molto il settore che raggiunge l'80% di riciclo lo fa grazie a una filiera molto diffusa e molto pervasiva diciamo in Italia perché ci sono circa 25 miliardi di fatturato del settore il settore della carta cioè le cartiere ne rappresentano circa 8 di miliardi su questi 25 quindi il settore della carta le cartiere fanno la carta sono i riciclatori in effetti sono coloro i quali che prendono la carta da riciclare che raccolta in Italia su circa 7 milioni di tonnellate di cui 6 vengono riciclati in Italia una quantità un aumento che speriamo possa ulteriormente aumentare anche grazie agli investimenti che stiamo cercando di fare con i fondi PNR con il flagship del settore carta e cartone vado al provvedimento che è questo l'oggetto ovviamente si è parlato molto di questo provvedimento si è parlato molto anche di di un atteggiamento dell'industria ideologico insomma un po' contrario a prescindere noi veramente la valutazione la considerazione che facciamo è che diciamo la commissione in Europa giustamente dovrebbero essere fissati obiettivi ambientali sfidanti importanti che devono guidare le politiche industriali e ambientali europee però la cosa importante è che poi diciamo quanto ai mezzi e agli strumenti deve essere un po' lasciato la possibilità diciamo di utilizzare diversi strumenti insomma un po' il concetto di neutralità tecnologica che più spesso è stato diciamo come dire evidenziato e se ne parla spesso in tanti contesti insomma ecco da questo punto di vista la proposta di regolamento e vado diciamo al merito insomma introduce il riuso senza motivarlo senza avere un'analisi di impatto ambientale seria e soprattutto non seria ma insomma che sia legata effettivamente ai nuovi obiettivi che intende introdurre e questo vuol dire avere degli impatti economici un impatto ambientale ma anche delle implicazioni sociali e quindi quello che noi sosteniamo è che per materiali diversi e cioè la carta che per suonatura è rinnovabile riciclabile compostabile ed effettivamente riciclata i numeri l'ho detti ma li ridico 80% di riciclo è in circa nell'imballaggio imporre riuso diciamo è quasi come dire una una sorta diciamo di punizione immeritata mi 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 riusciatevi usare questo questa questa terminologia perché innanzitutto nelle politiche di riciclo abbiamo raggiunto obiettivi alti il riciclo in qualche modo è l'unica opzione che noi abbiamo per essere e continuare a fare il nostro mestiere sotto il profilo dell'economia circolare e quindi in questo riteniamo che a materiali diversi con caratteristiche diverse debbano corrispondere anche obiettivi diversi quindi a un settore come la carta forse è inutile chiedere di nuovo di fare il riuso perché non lo può fare diciamo è in idoneo tecnologicamente molto importante chiedergli di fare più riciclo e da questo punto di vista il settore sia in Europa perché parliamo di Europa sia diciamo in Italia è attrezzato ad andare in questa direzione ovviamente per per smontare un po' questo questa impostazione della commissione noi abbiamo fatto anche diversi studi un ultimo studio l'abbiamo fatto proprio in aprile poco prima forse del lancio della della pubblicazione della bossa di relazione della relatrice di ries ma insomma da questa relazione emergerebbe diciamo che nei settori degli imballaggi monouso nella ristorazione per esempio aumenteremo le emissioni di CO2 del 160% e aumenterebbero anche i costi 100 del 30% nel caso invece del commercio elettronico insomma della consegna a domicilio con con imballaggi in cartone diciamo le emissioni aumenterebbero fino al 40% e i costi fino al 200% insomma ma questo tutto sommato significherebbe anche dato che l'Italia è il paese del made in Italy diciamo così scusate è un po' ultrone come una ripetizione ma insomma siamo un paese che si distingue per la sua capacità manifatturiera per la sua capacità di esportare per la sua capacità di portare in giro per il mondo i suoi prodotti i suoi bei prodotti lo fa grazie all'imballaggio ecco e lo fa soprattutto in Europa lo fa soprattutto nel mondo ma anche soprattutto in Europa quindi introdurre dei sistemi che vadano verso il riutilizzo significa anche diciamo come dire rendere più difficile la movimentazione delle merci insomma adesso se pensiamo diciamo all'ortofrutta che magari parte dal sud dell'Europa e dell'Italia va verso il nord e pensare che debba essere assoggettata a un meccanismo per il quale gli imballaggi devono essere fatti di un certo dimensionamento ci deve essere riuso questo significa inevitabilmente rendere il mercato interno frammentato difficile da da essere utilizzato come consumatori ma anche come cittadini perché il tema non è solo quello di essere consumatori ma il tema è anche quello di essere cittadini indubbiamente uno dei temi ed è un tema sul quale purtroppo ci siamo anche confrontati recentemente per le note vicende pandemiche c'è anche un problema di sicurezza di sicurezza alimentare di sicurezza negli imballaggi ora proprio quelle fasce quell'ambito in monouso è assoggettato a severe norme diciamo da un punto di vista del food contact della sicurezza alimentare ecco queste norme non vengono ben considerate queste norme da una parte per esempio impediscono ancora oggi il riciclo in certi ambiti perché lo ritiene particolarmente rischioso e su questo probabilmente avrebbe aperto una riflessione perché se vogliamo andare verso l'economia circolare probabilmente anche questi ambiti con le necessarie garanzie debbano essere percorsi diciamo da un punto di vista legale legislativo e anche come prospettiva per l'industria ma dall'altra il riuso diventa un elemento diciamo di rischio insomma andare in un negozio in una situazione del genere con un proprio imballaggio significa aprire il rischio diciamo di non poter assicurare un imballaggio sicuro questo diciamo è un tema sul quale dobbiamo necessariamente confrontarci anche perché poi gli operatori sarebbero poi chiamati a essere responsabili di qualcosa di cui non possono non hanno la gestione ecco quindi vero che in un emendamento della riesce si dice non deve essere responsabile del gestore ma nel mondo oggi di cui oggi viviamo insomma sarebbe come dire un diritto senza ad espota in qualche modo cioè immaginate di entrare in un negozio in una ristorazione con un proprio imballaggio e poter dire e dover dire ma guarda io comunque gestore non ho colpa su quello che fa insomma è veramente un controsenso nel mondo dottor Medugno abbiamo già qualche prenotazione posso girare intanto qualche domanda eh certamente sono qui apposta ottimo grazie la collega Labbate prego grazie presidente io l'ho ascoltata su alcune cose concordo con lei nel senso che eh anche che insomma il riciclo della carta è un po' più dall'occhiello quindi e va benissimo e solo che mi chiedo se appunto con questa cosa che noi facciamo molto bene italiani non dobbiamo anche incentivare il il riutilizzo che poi capisco anche che forse sulla carta devo dire è un tipo di materiale che non si presta tanto a questo magari si può fare il discorso del riutilizzo su altri tipi di materie prima appunto per per gli imballaggi e però ricordiamo che in passato diciamo ognuno c'era la vendita allo sfuso la vendita allo sfuso è prevenzione e quindi se riusciamo un pochettino a portarla avanti non danneggerebbe nemmeno quello che è il sistema già esistente di riciclo perché dopo n cicli di riutilizzo delle proprie cose eccetera comunque alla fine l'imballo che c'è verrà sempre a fine vinta a finire in un sistema di riciclo e quindi arriverà comunque a quello che è un sistema già consolidato che sicuramente funziona in Italia collega se fa la domanda velocemente così almeno proviamo a recuperare un po' di tempi che siamo già in ritardo la domanda è di riflettere su questo e volevo sapere cosa ne pensa se hanno riflettuto sul discorso che se l'Italia non si pone davanti a cioè blocca quello che l'Europa ci sta chiedendo non possa restare indietro rispetto agli altri paesi e quindi magari invece si crea un disagio invece di creare anche un qualcosa di positivo per le imprese italiane grazie alla collega Labbate la collega Pavanelli invece sempre per il dottor Medugno prego sì grazie presidente solo per dire che nella direttiva europea è chiaramente specificato che nel settore dell'ortofrutta insomma se ci sono rischi di deperibilità veloce io penso ovviamente all'ortofrutta quella fragile pensiamo ai frutti di bosco alle fragole eccetera è evidente che lì l'imballaggio è praticamente d'obbligo e che credo che sia il tipo di imballaggio ovviamente del settore della carta non stiamo parlando di altri settori io credo che in quella circostanza sia più che opportuno poter proseguire quello che già oggi offre ovviamente il mercato e tra l'altro come sappiamo bene come è stato detto anche in altre relazioni del settore della carta l'Italia vanta un grande settore sia della raccolta della carta ma ovviamente anche del riciclo io credo che in questo senso la direttiva non va assolutamente a discapito del vostro settore ma chiedo se secondo lei ci sono ovviamente altri tipi di criticità magari più specifiche più nel dettaglio se non riesce a rispondere adesso se magari le può includere nella relazione che invierà le commissioni la ringrazio grazie collega dottor Medugno se riesce ad essere sintetico molto volentieri certamente non siamo non siamo contrari per definizione al riuso riutilizzo anche perché in Italia non è il settore della carta ma il riuso e il riutilizzo si fa insomma voglio dire basti pensare a tutti i materiali che vengono nel trasporto nei pallaggi di trasporto le famose pedane no? quelli sono tutti i pallaggi riutilizzabili quindi è la dimostrazione che laddove si può e dove c'è anche diciamo convenienza economica ambientale questa operazione si fa per cui non c'è contraria a priori solamente che in certi ambiti devo dire che possono essere la ristorazione la consegna il delivery pensare al riuso probabilmente in termini così ambiziosi e così ampi è difficile e non porta vantaggi ambientali come credo possiamo aver dimostrato non sempre e quindi questo è un tema è un tema importante anche perché per fare degli imballaggi resistenti agli urti bisognerà farli più pesanti e forse questo avrà un impatto anche sul riciclo di quell'imballaggio che noi tendiamo oggi a far più leggeri per renderli più riciclabili e più doni diciamo più facilmente riassorbibili se vogliamo all'interno del ciclo per quanto concerne gli altri aspetti rispondo all'ultima domanda è vero il tema del riuso non è l'unico c'è anche un altro tema che il regolamento che dovrebbe essere il massimo dell'armonizzazione perché non necessita diciamo di norme di attuazione in qualche modo da una parte introduce dei vincoli negli obiettivi per esempio di riuso e dall'altra però introduce la possibilità per esempio per gli stati membri di avere diciamo delle normazioni ulteriori e diverse questo secondo noi è un po' in contrasto con l'obiettivo dell'armonizzazione se noi abbiamo un obiettivo all'interno dell'Europa oggi è quello che avere dei sistemi per esempio di raccolta dei sistemi diciamo che siano abbastanza armonici in tutta Europa siamo cittadini europei lo dovremmo essere anche come cittadini europei dell'economia circolare d'altro canto credo che lo dobbiamo ricordare perché queste sono cose che vanno anche dette insomma noi le prime norme in materia di economia circolare l'abbiamo avute dall'Europa il decreto Ronchi 2297 da lì siamo partiti per fare questa sorta dottor Medugno lo devo ringraziare però siamo andati in posto grazie mille grazie a lei grazie a me direttore generale Medugno per il contributo dei suoi lavori e dichiariamo concluso l'audizione grazie a te grazie a te Grazie. In materia di sussidiarità, proporzionalità e neutralità tecnologica. Permettetemi di dire che basterebbero questi tre temi per dire che questa bozza di regolamento è un po' fuori norma. Il nostro settore è un settore molto vivace, che conta circa 130 aziende, però la particolarità è che di queste 130 aziende, le prime otto gruppi o grandi aziende rappresentano il 70% del mercato. Quindi vuol dire che c'è una schiera enorme di piccole, piccolissime imprese locali, regionali, interregionali, che sono tutte, quasi tutte, anzi tutte, private, cioè fanno capo a delle famiglie. Detto questo, noi nel 2022 abbiamo avuto una produzione di 16 miliardi e mezzo di litri, che possono sembrare tanti, ma se pensate che l'acquifero italiano sotterraneo è di 17 miliardi di metri cubi, noi imbottigliamo 1 milione e 600 mila metri cubi, quindi lo 0,0001%. Di questi, 1 miliardo e 600 milioni di litri li esportiamo in tutto il mondo, all'estero, con un saldo attivo commerciale di 600 mila euro. E questo ci sta dando anche un primato rispetto alla Francia, che storicamente aveva questa caratteristica. Come settore noi utilizziamo espressamente per le nostre bottiglie il PET, questo qui è polietilente reftalato. Questa è una delle più grandi invenzioni della chimica plastica del secolo scorso, insieme a quell'altra del polipropilene isotattico, che al di là di questo nome meditaresco, lo conoscerete, immagino, con il nome commerciale di Moplen. Il Moplen. Qualcuno ricorderà la pubblicità di Bramieri e Mo, Moplen, no? Ma vedo che siete tutti molto giovani, quindi non lo ricordate, però era così. Il polipropilene isotattico fu inventato da Natta, che prese il Nobel. Questo qui è stato brevettato, il PET, invece, da un americano, Wyatt, il quale sarà morto ricchissimo, il più ricco del cimitero, perché è mondiale questo brevetto, e non ha avuto grandi soddisfazioni, se non una dopo morto, perché pensate che durante la pandemia l'unica acqua che entrava negli ospedali era questa in PET, per la sicurezza. Così come era tutto in plastica, gli strumenti, le cannule, le flebo, le siringhe, eccetera. Noi oggi abbiamo un sistema fondamentalmente basato sulla raccolta differenziata, lo saprete, e a questo contribuiamo anche personalmente. Io sono consiglio di amministrazione del Corepla, che è il Consorzio per il riciclo della plastica, da sempre, e siamo lì perché il Corepla compie la sua missione. E la sta compiendo così bene il raccordo con il CONAI, che è il Consorzio nazionale, che oggi abbiamo il record della raccolta e dell'avvio al riciclo in Europa. Quindi abbiamo un sistema fortemente consolidato. Con questo regolamento si vuole introdurre invece il criterio del riutilizzo. Questo è una cosa che crea due ordini di problemi, sarò molto sintetico. Il primo è un problema di investimenti, perché un'azienda si deve fare un impianto per il riutilizzo, perché sono altre bottiglie. Se questa bottiglia pesa 13 grammi, per farla riutilizzabile la dovrò far pesare 50 grammi. Quindi, devi fare un investimento importante, devi avere anche lo spazio nello stabilimento per mettere giù una linea, non è detto che tutti ce l'abbiano. Ma soprattutto, quindi c'è un problema di capitali, ma soprattutto si va a intaccare, a impattare, su un concetto che per noi è preeminente, che è quello igienico-sanitario. Il nostro decreto legislativo 176-2011, che disciplina le acque minerali, che è un recepimento di direttiva europea, è chiarissimo, e lo cito testualmente, l'acqua minerale si distingue dalla ordinaria acqua potabile per la purezza e sua conservazione. Purezza cosa vuol dire? Che l'acqua minerale è originariamente pura all'origine, batteriologicamente, perché la purezza chimica in natura non esiste, anche perché oggi la capacità di lettura degli apparecchi che sono nei laboratori chimici è tale, leggiamo addirittura il picogrammo, cioè noi abbiamo un paio di parametri il cui limite è espresso in nanogrammi. Fino a 4-5 anni fa li leggeva Firenze, Brescia e Udine. Adesso le leggono quasi tutte le arpa. Però dopo il nanogrammo c'è il picogrammo. Poi dopo il picogrammo si arriva al femtogrammo, che è quello della chimica nucleare. Quindi si trova tutto. Ovviamente cosa trovi? Una traccia minima, una microtraccia, che non ha una correlazione con un problema igienico-sanitario. E questo lo troviamo negli alimenti, nella frutta, eccetera. Ora, l'impatto quindi è forte sul riutilizzo, perché lasciamo perdere l'immagine queste bottiglie di plastica che non peseranno più 13, faccio un'ipotesi questa in particolare, ma peseranno 50 grammi. Ma come ci presentiamo al consumatore, essendo i paladini della purezza originaria, e la sua conservazione vuol dire che questa bottiglia deve essere chiusa, quest'acqua minerale deve essere stata chiusa in stabilimento, cioè alla sorgente, in un contenitore sicuro. E questo processo, che sarebbe bello che vedeste perché è fantasmagorico, è tutto in linea. Arriva la preforma, che è una capsula, entra in un impianto, la surriscalda e fa la forma della bottiglia. Lo stampo gli dà questa forma, l'anello, ognuno ha il suo stampo. Poi va in linea, viene riempita, poi viene tappata, etichettata. Un laser gli spara la data da consumarsi sul tappo. Viene a fondo linea, vengono fatti dei pacchi, dei fardelli, che sono da 6 per la litra e mezzo, 2 litri. Queste magari possono essere anche 24, vanno su un pallet, vanno in magazzino. Ma vanno in magazzino, ma partono 24 ore dopo. Noi non produciamo, né possiamo produrre per il magazzino. Perché? Perché questo prodotto è per sua stessa definizione un prodotto povero, a bassissimo valore aggiunto. Se voi andate in un discount, l'acqua che costa meno, costa 11 centesimi al litro. Se pensate che il P&T, per fare una bottiglia, ci incide per il 70% del costo complessivo, poi c'è il trasporto, che è un altro 10-15%. Oggi i trasporti non si trovano, c'è una carenza e sono aumentati. Questo è dovuto anche, pensate, al fatto che il servizio di leva non è più obbligatorio. Una volta il giovane andava a fare il militare, si prendeva la patente A, B, C, D, usciva e faceva il camionista. Oggi il giovane, il camionista non lo vuole fare, perché il giovane dice qual è l'ora di lavoro? Alle 2 smonti. Va bene, ma se trovi un intoppo in autostrada, smonti alle 6, lui gli va a pallino le happy hours, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i nostri problemi. Allora, qui c'è un problema anche igienico-sanitario. Noi dobbiamo tutelare la qualità di questo prodotto, anche perché c'è, e non vi sfuggerà tutti i giorni sulla stampa, questo ha un po', come posso dire, atteggiamento ideologizzato oggi, anche oggi, stamattina, su QN, eccetera. La nuova casetta dell'acqua mette fuori gioco, non so, 5.000 bottigliette di plastica. Sì, le metterà fuori gioco, ma quell'acqua non è acqua minerale, è acqua di rubinetto trattata. Quindi noi dobbiamo preservare anche questo prodotto che è entrato in tutta la sua forza nel novelo del Made in Italy. Oggi noi vendiamo all'estero perché siamo un prodotto del Made in Italy. Qui troverete una tabellina che è fatta bene, non perché l'abbiamo fatta noi, ma che ti fa vedere la differenza in termini di emissioni di CO2 tra un sistema, diciamo, come oggi, di raccolta differenziata, quindi attraverso la bottiglia, che ha una utilizzo, e il riuso. Il riuso presenta un sensibile aumento dei consumi di energia e di acqua. Quindi è meno sostenibile, pensate, il riuso del sistema cosiddetto one-way, cioè consumi e poi metti nella raccolta differenziata. Grazie, Presidente. Vediamo se c'è qualcuno collegato in presenza che intende fare delle domande. Altrimenti ringraziamo i rappresentanti di Mineracqua, quindi il Presidente Ettore Fortuna, il collega Simiani. Sì, grazie, Presidente. Ringrazio il Dottore per la spiegazione, devo dire, sicuramente interessante, sostiva. Ogni volta che noi abbiamo un interlocutore nuovo, ci apre un mondo, perché effettivamente, anche dal punto di vista economico, ci ha spiegato esattamente il valore anche della produzione di ricchezza del settore. Tuttavia noi abbiamo, logicamente, un problema, cioè quello di oggi di discutere una direttiva che deve trovare il modo di incastrarsi anche in base a alcuni obiettivi che l'Europa ci dà e che non devono andare sicuramente, devono essere a favore sicuramente di questo processo, ma anche dobbiamo tener conto di questo equilibrio di tutela di un mercato che sicuramente è florido, ma che comunque può trovare delle difficoltà. Lei pensa, proprio su questo settore, su quel materiale che ora lei sta toccando, si può migliorare ancora di più in termini di ricerca il prodotto dal punto di vista ambientale o pensa che noi siamo arrivati al top? Punto. Allora, alla ottimizzazione non c'è mai limite, alla ricerca non c'è mai limite. Noi siamo imprese di altissima capacità tecnologica. Dovreste vedere i nostri impianti. considerate che queste bottiglie pesavano il 40% in più 10-15 anni fa. Noi abbiamo ridotto il peso, per cui in questi 15 anni le vendite sono cresciute del 30%, ma la plastica immessa sul mercato è la stessa. Questa si chiama sostenibilità e l'abbiamo fatto quando ancora non si parlava di sostenibilità. Il futuro quale può essere? Sicuramente verrà fuori il natta della situazione che inventerà un polimero dove ci sarà una componente vegetale importante. Già ci sono, eh? Però attenzione, sono polimeri che vengono mescolati con principi che vengono dal mais, quindi si sottrae all'alimentazione, quindi dobbiamo trovare un equilibrio che oggi ancora non si trova. Ma io sono certo che si scoprirà, si inventerà qualche cosa. 27 anni fa noi non usavamo il PET, usavamo il PVC, poli-venil-cloruro, che quando lo andava a riciclare, bruciava, sprigionava diossina, acido cloridrico. Brava, esatto. Noi siamo passati, una volta sperimentato il PET, tutto il settore dal giorno dopo ha adottato il PET, quindi investimenti, pianti nuovi, eccetera. Quindi sicuramente quello che lei auspica avverrà. Ci vuole il tempo, bisogna dare il tempo a chi fa questo mestiere, che non siamo noi. Noi poi applichiamo. Grazie, ringraziamo quindi il Presidente e il Rettore Fortuno per il contributo dei nostri lavori e dichiaro concluso all'audizione. Grazie Presidente, grazie davvero. Grazie Presidente. Ispra, vediamo un po'. Sì, l'ordine del giorno è che è l'audizione informale. Buongiorno, un attimo solo. L'audizione informale del rappresentante dell'Istituto Superiore della Proposizione della Ricerca Ambientale Ispra. C'è la dottoressa Siclari? Vediamo un po', un attimo. Non c'è? No, Valeria Frittelloni. Valeria Frittelloni, che è quindi Capo Dipartimento per la Volutazione e i Controlli della Sostenibilità Ambientale, e Andrea Lanz, invece, alla destra, responsabile dell'area tematica e mutabilità per i rifiuti del Centro Nazionale di Rifiuti dell'Economia Circolare. A voi la parola. Vi prego di mantenervi nei minuti dedicati. Grazie. Grazie, buongiorno Presidente. Ringraziamo tutti i commissari per questa audizione. Cercheremo di darvi gli elementi a nostra disposizione, diciamo, nei tempi che ci avete consentito. Quali sono i compiti di Ispra? Intanto sugli imballaggi. Intanto supportare il Ministero dell'Ambiente nelle istruttorie di riconoscimento dei sistemi autonomi, esenzio dell'articolo 221. Quindi Ispra predispone l'istruttoria tecnica sulla base della quale poi i sistemi autonomi vengono riconosciuti. Ma ci occupiamo anche della rendicontazione alla Commissione Europea, quindi fondamentalmente dell'elaborazione di tutte le informazioni, di tutti i dati che servono a validare, e certificare gli obiettivi di riutilizzo, recupero e riciclaggio che il nostro Paese ogni anno deve rendicontare alla Commissione Europea. Quali sono gli aspetti, chiaramente, per quella che è la nostra competenza specifica che ci piace oggi evidenziarvi? Allora, intanto, questo regolamento introduce nuovi obiettivi, nuovi obiettivi che, diciamo, si vanno a sovrapporre a obiettivi che, voi sapete, sono stati appena rivisti nella regolamentazione europea, cioè la direttiva imballaggi è stata modificata solo nel 2018 attraverso il pacchetto economia circolare e già con questa modifica normativa gli obiettivi sono stati innalzati, sono stati introdotti obiettivi per materiale ed è stata introdotta soprattutto la nuova metodologia di calcolo per gli obiettivi. Il rispimento di questa normativa europea è avvenuto in Italia a settembre 2020 e oggi praticamente noi non siamo ancora in grado di valutare bene come, diciamo, questa norma ha impattato sulle performance del nostro sistema perché dovete pensare che abbiamo potuto rendi contare diciamo dal 2020 ad oggi, quindi dopo l'entrata in vigore del pacchetto economia circolare, soltanto una prima volta alla Commissione europea sugli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi e mai per la direttiva SUP perché non dimentichiamo che contemporaneamente è stata emanata anche la direttiva sul single use delle plastiche che ha eliminato alcuni prodotti dal mercato e che ha introdotto anche lì nuovi obiettivi sugli imballaggi alimentari e siamo in questo momento in una prima fase di valutazione dei dati e di rendicontazione, quindi sugli obiettivi della SUP ancora non abbiamo mai rendicontato e non abbiamo ancora la situazione chiara rispetto alle modifiche introdotte e che cosa comportano sul nostro sistema. Questo nuovo regolamento va, come dicevo, ad incidere sugli obiettivi della direttiva imballaggi ma anche sugli obiettivi della direttiva sul monouso perché va a introdurre anche delle modifiche sugli imballaggi monouso. Quali sono le principali le principali modifiche? Intanto una rendicontazione per esempio per tipologia di polimero come potete immaginare questo va diciamo ad incidere moltissimo non solo sulle modalità di raccolta dei dati ma proprio sulle modalità di raccolta dei rifiuti cioè dovranno essere messe in atto a livello territoriale delle modalità per separare i rifiuti per tipologia di polimero. Questo richiede anche diciamo una certa preparazione del sistema ma non solo del sistema formato dagli operatori ma anche dei cittadini cioè dobbiamo essere sicuri che i cittadini siano in grado poi di distinguere i polimeri per poterli raccogliere in maniera adeguata. Degli obiettivi sul numero di sacchetti di plastica per persona degli obiettivi di riduzione della produzione degli imballaggi del 5, 10, 15% al 2020, 2035 e 2040 degli obiettivi di riutilizzo probabilmente quindi tutto questo diciamo ripeto obiettivi molto ambiziosi che però si vanno a sovrapporre ad obiettivi che ancora non abbiamo avuto modo di poter testare nell'ultima revisione diciamo attuati solo poco tempo fa le modifiche diciamo poi il regolamento prevede tutta una serie di attuazioni attraverso atti delegati ecco questo è anche un altro elemento che ci preoccupa perché con gli atti delegati c'è poca possibilità negoziale chiaramente e quindi diciamo c'è poca possibilità per gli stati membri e quindi anche per l'Italia di far valere le condizioni specifiche del paese noi abbiamo diciamo una particolarità rispetto a molti altri stati membri cioè a quello di aver puntato molto sul sistema della raccolta differenziata e quindi temiamo che questo utilizzo degli atti delegati diciamo andrà poco incontro alle peculiarità del nostro paese e questo va tenuto anche molto in considerazione rispetto al fatto che nell'ultimo anno sono stati posti in essere anche degli investimenti sostanziali tra cui gli investimenti del PNRR che ha destinato fondi diversi fondi di quelli previsti per la missione M2C1 della componente economia circolare ai finanziamenti sugli impianti di riciclaggio in particolar modo sia della raccolta che andassero ad implementare le raccolte differenziate che diciamo gli investimenti su privati i cosiddetti progetti flagship che diciamo dovrebbero essere chiusi entro il 2026 e che quindi diciamo richiedono anche una stabilità da un punto di vista normativo della situazione al contorno la situazione diciamo dagli ultimi dati che abbiamo rilevato per lo Stato italiano è assolutamente positiva perché diciamo abbiamo certificato un raggiungimento degli obiettivi già in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla Commissione Europea di tutte le frazioni merceologiche e anche del riciclaggio totale e l'unica frazione che non ha ancora raggiunto l'obiettivo è la frazione plastica però dobbiamo tenere presente che l'obiettivo è al 2025 del 50% e noi siamo leggermente al di sotto quindi intorno al 47-48% quindi la situazione è un po' questa e diciamo sarebbe stato più opportuno forse andare a verificare l'efficaccia delle misure messe in atto prima di andare a fare delle modifiche così sostanziali come quelle proposte dal nuovo regolamento grazie dottoressa siamo ancora proprio con i minuti contati io devo soltanto chiedere se ci sono dei colleghi diciamo qui in commissione oppure collegati che vogliono fare delle domande la collega Labbate prego grazie presidente io ringrazio la dottoressa per quello che ci ha detto quindi i dati che ci ha fornito solo che ecco volevo chiederle proprio un po' più di preciso secondo potolei e l'ISPRA in che modo possiamo porci con appunto questo regolamento ma proprio in modo molto chiaro per la necessità che abbiamo di tutelare le nostre imprese per quello che è un sistema consolidato ma allo stesso tempo per non restare indietro rispetto alle altre nazioni su alcune dinamiche che chiaramente si stanno prefigurando e che ci vengono chieste nel regolamento grazie grazie dottoressa vuole replicare? sì grazie intanto diciamo noi stiamo supportando il ministero dell'ambiente nella fase negoziale quindi con tutte queste informazioni sosteniamo diciamo le posizioni italiane chiaramente per quello che è il nostro sistema di imprese ma anche per il sistema diciamo messo in atto a far data dal decreto Ronchi il 2297 che ha individuato il sistema consortile come un sistema a cui appoggiare la nostra raccolta è chiaro che diciamo accanto al riutilizzo va valorizzata anche la fase di riciclaggio anche perché diciamo il riutilizzo richiederà anche una nuova progettazione degli imballaggi che dovranno essere necessariamente più resistenti con altre caratteristiche e questo non deve andare a diciamo impattare negativamente invece su quello che noi finora abbiamo fatto sulla riciclabilità degli imballaggi grazie dottoressa la parola al collega Simiani sì grazie dottoressa la ringrazio per la sua relazione esaustiva una domanda Ispra ha fatto un calcolo del possibile trasporto di materiali per riutilizzo se dovesse passare il diciamo l'alimento quello del di riutilizzo per esempio le bottiglie di vetro per esempio ce ne potrebbero essere altri contenitori in cui oggi è stato fatto uno studio su questo da parte di Ispra cioè quale sarebbe il saldo anche in termini ambientali l'impatto della logistica per quanto riguarda il riutilizzo praticamente prego allora l'istituto non ha fatto uno studio diciamo da noi chiaramente noi abbiamo dei dati che sono diciamo desumibili dal registro delle emissioni che riguardano i trasporti che sono dei dati che sono disponibili sul sito dell'Ispra sul registro delle emissioni associate alle diverse caratteristiche dei mezzi di trasporto quindi una valutazione è possibile farla però no come istituto non abbiamo fatto uno studio su questa specifica tematica benissimo vi ringraziamo quindi ringraziamo i rappresentanti di Ispra per il contributo dei nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione grazie davvero dottoressa e anche Andrea Lanzi grazie di nuovo buona giornata buon lavoro l'ordine del giorno rega l'audizione informale dei rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome do la parola quindi all'assessore Marco Porco coordinatore commissione ambiente energia e sostenibilità assessore della regione Sardegna ricordando che il tempo a sua disposizione è di 5 minuti assessore accendiamo eccoci qua pronti via grazie presidente intanto vi ringrazio per aver voluto sentire il parere della conferenza delle regioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo in tema di imballaggi dunque inizierei brevemente segnalando che una delle principali preoccupazioni in tema di recupero ambientale è rappresentata proprio dall'utilizzo degli imballaggi perché sono uno dei principali utilizzatori di materiale vergine e poi potrebbe essere tecnicamente riciclati ma non lo sono perché i processi necessari per la raccolta e il riciclaggio non sono disponibili o comunque dal punto di vista tecnico economico non sono efficienti in termini di costo la normativa unionale inizialmente è stata disciplinata attraverso una direttiva che però ha creato ha contribuito a creare delle distorsioni per cui oggi noi abbiamo dei paesi che viaggiano su velocità differenti non sembra però che a parere delle regioni che la proposta di regolamento che prevede tutta una serie di limiti e obiettivi anche a stretto giro possa essere una soluzione questo perché l'utilizzo dello strumento del regolamento appare contrario secondo le regioni al principio di sussiderità in quanto la direttiva avrebbe sicuramente consentito un'ulteriore direttiva avrebbe consentito agli stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi in particolare se consideriamo la condizione dell'Italia che oggi raggiunge risultati importanti in termini di raccolta differenziata pari al 70% con 9 anni in anticipo rispetto a quelli che erano i limiti previsti dall'Unione Europea i termini stringenti imposti e le azioni impattanti imposte dal regolamento rischiano di compromettere il sistema di gestione del riciclaggio e del riutilizzo degli imballaggi questo perché il paese si è strutturato in maniera prevalente su sistemi di riciclo e non di riuso e questo naturalmente comporterebbe un'evidente spesa sia per le regioni che per lo Stato e per i privati per l'adeguamento degli impianti inoltre si ritiene opportuno per favorire il riciclaggio di diversi materiali e l'introduzione dei contenuti minimi di materiale riciclato non solo con riferimento alla plastica ma anche con riferimento al vetro e ai materiali il cui riciclo di solito garantisce il totale recupero del materiale e per quanto riguarda i metalli è particolarmente vantaggioso rispetto a quello del riuso inoltre il regolamento non tiene conto adeguatamente la definizione di imballaggio compostabile perché appare la definizione assolutamente generica e così come vaga appare la possibilità di deroga per i contenuti minimi di plastica riciclata che devono essere contenuti negli imballaggi per quanto infine riguarda i criteri previsti perché uno Stato o meno possa avversi della deroga di istituire un sistema di deposito calzionale si ritiene che questi siano eccessivi perché è previsto una percentuale del 90% di raccolta differenziata che naturalmente appare abnorme rispetto a quelli che sono anche gli obiettivi imposti dall'Unione Europea la Commissione ha discusso la Commissione Ambiente ha discusso su richiesta del Presidente della Commissione Ambiente del Senato Terzi di Sant'Agata è stata la questione il 9 maggio abbiamo trasmesso un parere alla Commissione del Senato e la conferenza delle Regioni nella saluta successiva ha approvato tutta una serie di osservazioni puntuali articolo per articolo al regolamento che sono anche allo Stato state inserite all'ordine del giorno del Comitato delle Regioni che in sintesi racchiudono tutte le indicazioni che io ho precedentemente esposto Assessore grazie allora la collega Pavanelli prego sì grazie Presidente io volevo solo commentare alcuni dati e spero che poi ci manda una relazione più approfondita così possiamo anche studiarla nel senso che non è che il riciclo viene eliminato da questa direttiva ci mancherebbe altro in realtà va per alcuni prodotti c'è la richiesta che sono ovviamente imballaggi di fare di attivare anche il vuoto a rendere cosa che tra l'altro già esiste in numerosi paesi e vorrei anche sottolineare soprattutto per i colleghi di maggioranza che molte delle nostre imprese siccome non hanno abbastanza materiale diciamo locale italiano vanno ad acquistare il materiale penso ad esempio il vetro la plastica o altri materiali da altri paesi che dove in realtà fanno hanno il sistema di vuoto a rendere perché noi appunto abbiamo quelle imprese che possono fare riciclo e abbiamo comunque le imprese che sono ovviamente come è stato detto più volte in queste settimane molto innovative cosa che non hanno le altre imprese pertanto è ovvio tra l'altro che per quanto riguarda alcuni materiali che può essere la carta piuttosto che la plastica o l'alluminio non ci può essere cioè il sistema di vuoto a rendere permetterebbe alle regioni ai comuni alle imprese di avere un materiale già ripulito fatto sta che ovviamente già ci sono tantissimi distributori fuori dalle grandi distribuzioni dai grandi magazzini che stanno facendo questa raccolta ed è sicuramente un grande aiuto per avere un prodotto già ripulito senza mischiare altri tipi di plastica piuttosto che altri tipi di materiali è evidente che per il vetro questo significa poter anche attivare per quanto riguarda le vetrerie oppure anche nuove imprese la possibilità di creare un sistema di sanificazione cosa che in realtà già esiste visto che molte nostre imprese già fanno in realtà il vuoto a rendere però è soltanto per le imprese private pensiamo ai bar ad alcuni ristoranti ad alcuni di questi hanno già quel sistema e il fatto di poterlo estendere ai cittadini sicuramente aiuterebbe e visto che in questi ultimi anni abbiamo anche avuto un enorme problema con il caro Bollette e sappiamo che tutte queste imprese sono altamente energivore magari avremo potuto risparmiare un po' di soldi invece che di rompere il vetro per ricreare il vetro di poter aumentare quel sistema di sanificazione soprattutto per poi tutte le nostre imprese del sistema di food and beverage io credo che sia un'opportunità di ampliamento e di raggiungere appunto quel 90% e mi auguro che le regioni possano vederlo come un'opportunità e non solo come un impedimento insieme alle imprese l'importante è che le regioni siano quanto più portate a ampliare ovviamente la raccolta dei rifiuti differenziati in tutti i comuni sappiamo che l'Italia non è tutta uguale sappiamo che anche all'interno delle regioni ci sono comuni o gruppi di comuni molto virtuosi e altri che non lo sono addirittura che proprio non hanno attivato per niente la raccolta differenziata ed è fondamentale che questo avvenga affinché i nostri le nostre imprese possono avere ovviamente sempre più materiale grazie presidente grazie collega vuole fare una replica assessore? sì sì prego prego grazie la posizione delle regioni non è contraria al sistema del riutilizzo ma semplicemente i tempi stringenti che il regolamento va ad individuare per il passaggio a questo sistema non sono compatibili probabilmente con l'attività delle regioni sia dal punto di vista economico che di mantenimento dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata la raccolta differenziata sta a monte di entrambi i sistemi di riuso e di riciclo ma sul punto possiamo dire che tendenzialmente l'Italia ha raggiunto risultati comunque importanti tra l'altro visto che sono l'assessore della regione Sardegna posso dire che la regione Sardegna è seconda in percentuale per la raccolta differenziata grazie a un grande lavoro svolto insomma nel corso degli anni su questo con pochissimi comuni che stanno al di sotto della percentuale di premialità per cui si tratta semplicemente di capire quali possano essere i tempi e chiaramente le regioni oggi sono orientate su un sistema di riciclo che potrebbe se è cambiato in tempi troppo brevi potrebbe far saltare il sistema della raccolta grazie grazie assessore Porco ringraziamo quindi per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione grazie l'ordine del giorno regala audizione informale dei rappresentanti del consorzio volontario per il ciclo del PET CoriPET eccolo qui Giovanni Albetti do la parola Albetti ci sente? vediamo se noi sentiamo lei noi non la sentiamo Albetti apra il microfono mi raccomando abbiamo credo una connessione un po' bassa adesso forse vogliamo provare vogliamo provare a spegnere il video Albetti mi sentite? adesso benissimo quindi è il direttore generale del di CoriPET Albetti a cui do la parola prego buongiorno a tutti è piacere di avermi invitato allora avvio subito la presentazione si vede la presentazione ancora no è in condivisione però adesso abbiamo lo schermo tutto nero vediamo se riusciamo a eccola sì ora online prego perfetto in questi 5 minuti vorrei trattare questi 4 punti che sono vecchie CoriPET molto velocemente andare a dare indicazioni su quelli che sono i tassi di raccolta e riciclo dei contenitori per liquidi in PET in Europa e in Italia e parlare della proposta di regolamento europeo sugli imballaggi specificatamente a quelle che sono il nostro il nostro perimetro che sono i contenitori per liquidi in PET e le considerazioni di CoriPET la CoriPET è un sistema IPR autorizzato al Ministero dell'Ambiente per la via riciclo delle bottiglie in PET i numeri della gestione del 2022 per dire a che punto siamo siamo nati nel 2018 e adesso nel 2022 contiamo 56 consorziati con una quota di mercato del 50,2% il 90,1% della popolazione coperta dalle raccolte differenziate urbane che sono che sono in accordo con l'Anci remunerate da noi abbiamo gestito nel 2022 circa 171.000 tonnellate di PET raccolto dalla differenziata urbana e dagli ecocompattatori che è la nostra modalità di intercettazione delle bottiglie tanto che appunto abbiamo circa 765 ecocompattatori nel 2022 attualmente i corrispettivi versati ai comuni e ai loro delegati è stato nel 2022 circa 58 milioni di euro e lavoriamo con circa 30 impianti di selezione attivi su tutto il territorio nazionale qual è il tasso di riciclo delle contenitori per liquidi in PET riporto un grafico che è stato redatto da EUNOMIA che è stato redatto per andare a indicare quello che era il tasso di riciclo dei contenitori per liquidi in PET e molto velocemente questo grafico dà evidenza che su un immesso del 100% di bottiglie di contenitori per liquidi in PET a livello di mercato europeo si arriva a utilizzare a riutilizzare all'interno di una bottiglia riciclata attualmente solo il 17% dell'immesso consumo questo perché nei diversi passaggi del processo che sono il processo di raccolta e il processo di riciclaggio si hanno delle dispersioni del materiale o non intercettazioni del materiale per cui attualmente è il 17% quello che viene attualmente riutilizzato all'interno delle bottiglie andiamo a una visione sul mercato italiano che è la gestione core per 2022 anche in Italia per quanto riguarda la gestione core per si conferma che la quantità di bottiglie intercettate di contenitori per i bottiglie intercettati nel 2022 sono circa 63,4% un pochettino di più rispetto alla media europea quindi i dati italiani sono in linea con quelli europei e confermano a nostro avviso la necessità di interventi normativi per raggiungere i livelli di raccolta e di riciclo più ambiziosi la proposta di regolamento UE contiene delle norme specifiche sui contenitori per liquidi in pet la proposta pone obiettivi di raccolta e di contenuto minimo di riciclo sfidanti ma d'altra parte noi sappiamo che l'Italia ha dei sistemi IPR efficienti sul riciclo e quindi ci sono dei margini di flessibilità per lavorare bene e per raggiungere questi obiettivi ricordo che nel regolamento c'è anche il tema del DRS cioè qualora non si raggiunge il 90% di raccolta grazie alla somma della raccolta differenziata tradizionale e a quella degli ecocompattatori non vi è un obbligo di introdurre il DRS per cui è un obiettivo su cui possiamo effettivamente misurarci le considerazioni di cori di merito al regolamento sono le seguenti il primo è secondo noi dobbiamo accettare la sfida del riciclo quindi accettare le norme che vengono inserite all'interno della normativa del regolamento per quanto riguarda i contenitori per liquidi in pet andando invece a concentrare l'attenzione sull'eliminazione di quelle norme che sono le norme sul riutilizzo delle bottiglie che a nostro avviso appaiono non supportate da un'adeguata istruttoria e da un'adeguata valutazione sugli impatti ambientali ed economici che portano l'altra considerazione è spingere affinché la filiera del pet riciclato e del bottle to bottle si risolva in benefici effettivi per l'Italia e l'Unione Europea e su questo abbiamo un'osservazione importante da fare che è la seguente che va chiarito all'interno secondo me dalla proposta di regolamento che il contenuto di minimo di pet riciclato da riutilizzare per la produzione delle nuove bottiglie deve pervenire da bottiglie post consumo raccolte e riciclate in Unione Europea perché se no si andrà a verificare un fenomeno tale per cui questo tipo di plastica riciclata arriverà da paesi non europei quindi extra europei e questo può portare a diciamo ad avere problematiche sui livelli di qualità del materiale riciclato e soprattutto sulla mancanza di un'effettiva tracciabilità del rifiuto quindi questo a nostro avviso è uno dei punti che dovrebbero essere evidenziati nel regolamento l'altra considerazione di Corepet è che di andare a rafforzare la normativa nazionale nella direzione di avere una sempre maggiore integrazione tra quella che è la raccolta differenziata tradizionale con la raccolta selettiva tramite ecocompattatori a nostro avviso per andare a traguardare gli obiettivi che sono richiesti dalla comunità europea occorre misure normative di maggior coinvolgimento degli esercizi commerciali per quanto riguarda l'installazione delle macchine verso spazi più idonei perché l'obiettivo è sempre uno ed è duplice uno da una parte andare a installare sempre di più ecocompattatori quindi andare ad aumentare il punto di intercettazione per i cittadini di queste bottiglie ma dall'altra fare in modo che questi punti di intercettazione quindi questi ecocompattatori raccogliano un numero adeguato sempre più adeguato di bottiglie perché un conto è installare la macchina e un conto è farla funzionare e quindi raccogliere i quantitativi necessari per andare a raggiungere gli sfidanti obiettivi europei da ultimo come osservazione e considerazione occorre da ultimo verificare gli obiettivi raggiunti dal modello di raccolta tradizionale più raccolta semestiva tramite ecocompattatori in munizione dell'analisi su un'eventuale necessità di introdurre il sistema DRS questo vuol dire di andare a fissarci una data entro cui effettivamente verificare che i sistemi che noi stiamo mettendo in piedi per non andare a implementare un sistema DRS una data in cui ci fermiamo facciamo una riflessione e vediamo a che punto siamo per prendere delle decisioni future grazie grazie dottor Albetti se non ci sono interventi da diciamo qui dall'aula oppure dai colleghi sì prego collega Pavanelli sì grazie presidente sono tanto ringrazio Cori Pet per questa interessante audizione con dati fondamentali per il nostro lavoro mi auguro che ci verrà inviato anche perché conferma quello che diciamo stiamo sostenendo da diversi giorni che sicuramente i due sistemi si sposano e lo state provando visto che state mettendo ecocompattatori su tutto il territorio italiano io vorrei solo fare una domanda molto secca secondo voi diciamo qual è la differenza tra la raccolta differenziata porta a porta quello che viene fatto nei vari comuni piuttosto che con le campane visto che purtroppo abbiamo sistemi veramente diversificati su tutto il territorio italiano e quello raccolti tramite ecocompattatori io chiedo se quelli che vengono da ecocompattatori risultano anche per voi come consorzio diciamo quel sistema dove ricevete il materiale diciamo più pulito e più idoneo soprattutto ovviamente stiamo parlando della plastica che sia quella plastica sappiamo che ci sono diversi tipi di plastica se sia quella più idonea per poi appunto avviare al riciclo grazie prego grazie per la domanda grazie per la domanda è assolutamente allora e se noi vogliamo mettere in piedi effettivamente un sistema industriale di utilizzo di pet riciclato all'interno delle bottiglie dobbiamo andare verso una raccolta selettiva cioè una raccolta che è dedicata alle sole bottiglie in piedi che si fa tramite ecocompattatori ma anche altre modalità volendo perché la raccolta se viene le bottiglie in piedi se vengono mischiate all'interno della raccolta differenziata tradizionale comunque sia danno meno qualità nella produzione di r pet quindi materia prima seconda che deve essere riutilizzata all'interno delle bottiglie se poi noi pensiamo di avviare questo ciclo di riutilizzo quindi delle bottiglie per rifare bottiglie il cosiddetto bottle to bottle per infinite volte ok è fondamentale che noi abbiamo della materia prima diciamo che entra all'interno degli impianti di riciclo di altissima qualità proprio per andare a riprodurre materiale di altissima qualità questo lo dico per risottolineare l'altro punto che ho citato prima i flussi di r pet che ci arrivano da paesi extra UE purtroppo abbiamo meno possibilità di tracciarli da dove arrivano quindi da dove sono state generate quelle quantità di pet riciclato per cui è fondamentale che anche all'interno del mercato europeo e all'interno magari di questo regolamento si riesca a sottolineare questo tipo di problematica cioè di garantire che l'utilizzo di r pet all'interno delle bottiglie immesse nel mercato europeo arrivino da bottiglie da rifiuti provenienti dal territorio europeo benissimo grazie ringraziamo quindi il direttore Giovanni Albetti per il contributo dei nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione grazie anche a tutti i colleghi collegati in presenza grazie a lei